Gino Ciafrone, presidente della NET Gruppo Vole 1950, si sta preparando la stagione ma già c'è una teco. Il palasenatore è stato assegnato al Delta Basket, ha vinto la gara del Comune, quindi per i prossimi dieci anni la gestione sarà della società del presidente Attilio Pierri. Come il movimento pallavolistico salernitano ha preso questa decisione? Per quanto ci riguarda, rinunciamo un po' tutti, tutto il movimento pallavolistico è quello che è l'impianto storico del nostro sport, sarà la nostra abilità a cercare zone, palestre alternative per portare avanti la nostra attività, visto che poi tra l'altro in città siamo rimasti arretrati di una quarantina d'anni circa. Le imprese che utono lo sport sono imprese che hanno bisogno di un po' di visibilità, di un po' di pubblicità, noi dovremmo riuscire ad adempiere questo compito. Ove mai non dovessimo riuscire diventa difficile conservare gli sponsor, deve essere tutta la nostra abilità, poi vedremo.